Bentornati in agro di Ascoli Satriano dove è localizzato il campo di Dask, la nuova varietà di pomodoro d'industria allungata di Nunams Italy. Vi ricordo brevemente la data di trapianto che è il 12 di aprile e oggi 9 luglio siamo a circa 90 giorni di coltivazione. Brevemente il campo ha partecipato anche ad un'iniziativa di Basfitalia, Ettaro Rosso Plus, un'iniziativa che ha l'obiettivo di migliorare le rese ad ettaro attraverso una migliore difesa fitosanitaria. Il campo infatti si trova in ottime condizioni fitosanitarie, un'ottima allegaggione, i frutti sono in invaiatura ed ingrossamento. Come potete ben notare la produzione è notevole e sta procedendo con frutti ben coperti di pezzatura media di 80-85 grammi. Con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio.